ferettina dimmi sai che cosa dobbiamo fare oggi su gmod sopravvivere a quella terribile lava già vai stef vai fere allora allora possiamo basarlo in due modi questo video fere o in modo pacifico o con una rissa ti ho tirato un uovo cosa scegli fere la rissa arrivo arrivo non vedo più nulla non vedo più nulla è solo via questo posto perché questo è il posto migliore vieni qua vieni qua che ti spingo aia ma basta mi arrendo me ne vado nella lava addio ragazzi come va io sono ferini e io sono stef e che si giochiamo a gmod hanno fatto il frorris lava anche su gmod quindi ovviamente non abbiamo resistito e ce lo giochiamo subito allora 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 consolini sappiamo che un po è passato di moda e siamo stati i primi a smettere di portarlo troppe volte per non stufare però devo dire che questa game mod è davvero interessante perché praticamente non solo aggiunge la lava aggiunge anche dei poteri e la possibilità di spingersi ad esempio io adesso il potere delle camaleonte e se vedete io mi posso arrampicare sopra il muro per cercare di sopravvivere e questo è soltanto una delle tante abilità che ci sono quindi diciamo che il gioco è ben più interessante rispetto a onde florislava classico sei pronta mi vuoi a spingere sì vado vai vai spingi no hai messo qualche abilità per far sì che io non ti possa spingere sono immune alle tue spinte mentre io non è giusto però io mi posso arrampicare sì ma io ti posso spingere allora devo punterare a tirarti uova in faccia uova in faccia le schifo bella aiuto no 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 la spingo no ferre non puoi scalare lo sai che io non posso sì allora steve steve calmati no 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 sta arrivando sta arrivando la lava ferre te lo dico lo so che adesso cosa fai smettila allora a parte che ci sta mettendo una vita da arrivare è quasi arrivata è quasi arrivata allora parliamo dove vuoi andare io ti tiro le uova mentre ti arrampi non mi interessa non valgono tanto se non me le tiri in faccia non mi fanno effetto addio steve ciao ferre lo so che tanto non riesci ad incastrarti lì ci ho provato ci ho provato ad incastrarmi nel cornicio non ho più energia steve ti arrendi no sto qua allora se mi spingi da qui non posso cadere perché sono con le spalle al muro quindi dici che riesci a vincere perché lei ha il vantaggio che quando arriverà la lava si può arrampicare quindi io la devo buttare giù in qualche modo vediamo se ci riesco no non mi fare questa sarà una sfida anche di corsa perché partiamo da qua tra dieci metri la lava arriva e dovremmo correre davvero veloci allora iniziamo un po ad andare perché ho paura devo essere sincero allora da dove arriva secondo te da terra guarda tipo conta fino a cinque e adesso spunta te lo dico sei pronta eccola corre corri 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 è molto veloce è abbastanza abbastanza non guardarti indietro non guardarti indietro ho preso un'abilità particolare te la voglio far vedere aspetta 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 guarda non usarla su di me però no no guarda sei pronta che succede ora cosa succede non bruci aspetta aspetta adesso pieno pieno arriva ho un po di paura perché non l'ho collaudata fare al limite io non ho collaudato questa abilità però teoricamente dovrebbe funzionare appena mi tocca la lava io dovrei fare una cosa ok allora vado eh vai aiuto mamma mia che coraggio funziona ogni volta che la lava mi tocca io volo via ok bello bello quindi diciamo che almeno ma ogni volta sono una volta no no ogni volta che mi tocca fin quando non muoci no no perché perdo vita ok però diciamo che se trovi una mappa dove ci sono dei posti altissimi dove arrampicarsi puoi arrampicarti da una parte all'altra è molto buona comabilità infatti io adesso appena la lava ci tocca prova ad arrampicarmi in qualche spigolo dei muri e vedere se riesco a batterti in questo modo questo poster ci si può stare quello che mi chiedo fare è quello che mi chiedo vai a provare a fare spider man fammi vedere come fai spider man guardate la guardate la devo mettere dritta però guardate come si arrampica nel poster allora se riesco a stare qua ho vinto lo so lo so vediamo no però vediamo è finita l'energia lì sì e qui un po di dubbio ti rimane mi è neanche sembrato perché lui ha messo le mani così quindi mi è sembrato aspetta tocca a me tocca a me adesso mi arriva la lava quindi volo tre aiuto due ma puoi controllare il volo stef è più o meno ma non troppo ok no no non è giusto non è giusto basta questa modalità fa schifo non la giocheremo mai più quindi cambiamo gioco adesso giochiamo cosa vuoi giocare stef no giochiamo un'altra cosa lo sapevo bene e tutti i poster sono fattibili perché guarda come fa il materiale ti ci puoi mettere sopra vuoi l'ultima rivincita no cambiamo mappa cambiamo mappa ok va bene va bene va bene nuova mappa allora 40 secondi per iniziare ad arrampicarci un po e per decidere che spello utilizzare io ho già deciso ferre tu hai già deciso sì anche io che cosa hai scelto dexterity salto e corro un sacco ok praticamente ferre ha pensato che dato che questa mappa è gigantesca è basata tutta verso l'alto vuole fare un sacco di parkour per andare nei punti più alti in assoluto sai che cosa ho scelto io ferre ho scelto di rimanere con i calzini perché ma come team che vince non si cambia ok sì 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 quindi diciamo che me lo riprovo un'altra volta magari me ne pentirò però ci voglio provare allora sto decidendo voglio provare fa super salto guarda lì salto parecchio salto parecchio non troppissima e quindi non è un potere troppo esagerato però almeno è buono fidati che fa comodo allora credo io sto individuando il punto più alto della stanza tu l'hai trovato allora rispetto all'altra mappa è meno chiaro secondo me però ci sono due tre punti ci sono due tre punti interessanti come ci arrivi e non lo so solo che la lava sta arrivando ferre la lava sta arrivando nei vasi riesci a saltare tu no troppo alti sì è un pacco incredibile io ero convinto di poterci saltare invece poi per pochissimo il tuo potere non è buono il tuo potere non è buono possiamo andare non sono riuscito a controllare il volo no 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 staff cosa hai fatto sei caduto nella lava allora praticamente ho sottovalutato l'altezza del soffitto ok nell'altra mappa io non avevo un soffitto vicino non sbattevo la testa qua sbattevo la testa non riuscivo a regolare il salto io adesso ti voglio far vedere quello che stavo facendo ok mettete anche tu l'abilità per saltare e seguiamo la mia strada ok vediamo quanto duriamo così dici perché ho trovato sì un posto che secondo me è buono se riusciamo a saltare allora quindi mi hai detto l'abilità per saltare dexterity c'è proprio un bambolotto che salta l'ho messo guardate quanto salto allora ferre sono già dove hai entrato tu quindi ti aspetto qui e mi fai vedere e secondo te vedi scalare tutto qua tu salti da qui dal primo cubetto ok e saltare in alto e poi se un attimino sei abile vedi vai qua e riesci anche a rampicarti su questi blu perché io sono arrivata qui sopra e secondo me si può continuare andando anche dall'altra parte e si è abbastanza in alto ma io non riesco a salire anche control premi spazio e accucciati ah ok e riesci a saltare uh così perfetto poi sali qua sali qua e poi io volevo andare lì sopra vedi in quel tronco di legno però poi tu sei morto e non sono riuscita a farlo così sì 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 beh devo dire ferre che questo è uno dei punti più alti è molto alto non riesco a confrontarlo con il punto migliore che ho visto io però facciamo così adesso io mi ammazzo tu torni qui nel prossimo round e io vado nel posto che ho pensato e vediamo chi ha trovato il posto migliore nella mappa ok dopo di che facciamo un round totalmente pvp va bene però visto che ti devi ammazzare dammi l'onore dai vai scusa dammi l'onore ciao step allora 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 ho due dubbi il primo è si può fare quello che ho in mente la seconda cosa è ci posso riuscire con l'abilità che ho messo spero non ne ho idea cosa vuoi fare dimmi e vedi questo vieni fuori un attimo no no io mi sto preparando prima mi preparo poi ti ascolto questo quadro ha la cornice teoricamente ci si può andare sopra però io devo partire ad arrampicarmi da qui ok sta funzionando spero che mi basti la barra ti prego stef 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 mi sa che la barra non basta mi sa che non basta no di pochissimo allora io sono pronta trovati un posto e vediamo chi ha ragione ok allora 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 mi sa che vado sopra la torcia consolini però devo ricaricare velocemente l'energia guardate ricaricati 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 allora 0 2 0 1 devo arrampicarmi vai arrampicati perché non si ok vinto fare ci sfidiamo qui vieni in questo ponte vieni in questo ponte addirittura sul ponte è cattissimo allora per ora stai ancora ferma è una sfida uno contro uno l'obiettivo è sopravvivere e per sopravvivere bisogna buttare giù l'altro ok però muoviti che sta salendo la lava io mi sono messo l'abilità che mi permette di non essere spinto e allora io l'abilità migliore uova infinite uova infinite tu non vedrai nulla e morirai ok io adesso non vedo nulla hai ragione ok però non mi puoi buttare giù devo trovare il modo per quello dove sei alla fine ti faccio impazzire cadi di sotto stai cadi di sotto non vedo nulla fere sempre di fronte a te ma ti sto spingendo ogni tanto ora ti vedo ora ti vedo vieni 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 che fortuna allora cerco di non farti capire nulla se non ti faccio capire nulla puoi cascare di sotto no 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 ok ti vedo ti vedo ti vedo ti vedo vieni qui vieni qui ti ho spinto sei caduta no non so caduta vieni capo l'anno è arrivato capo no accidenti allora le uova io speravo ti sbalzassero un pochettino invece ti fanno fare solo qui gesti strani non mi fanno vedere nulla ma non ti sbalza non vedevo niente cioè è come se stavo guardando attraverso un vetro di quelli che non ti permettono di vedere lo so per quello ho messo le uova infinite stavo impazzendo stavo totalmente impazzendo magari se non vedi a furia di muoverti inciampi cadi ho rischiato secondo me due o tre volte non lì per cadere al limite solo ho avuto la tua solita fortuna ma stai agita ma che cosa fortuna salgo 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 veloce che abbiamo 28 secondi allora con calma non cadere stef perfetto posso salire ancora più su e credo che questo sia il massimo possibile assoluto nella porta quindi vediamo un pochettino se stef ha trovato il punto più alto o se è quello di fare guarda ti dico fare se io faccio una linea di altezza da qui mi sembra comunque di essere abbastanza simile alla torcia e temo un po più in basso rispetto a te non lo so staremo a vedere 8 8.3 8 adesso 7.6 ok aspetta 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 è troppo veloce ancora non ci capisco nulla sta arrivando la lava sta arrivando sta arrivando sta arrivando sta arrivando è andata molto più veloce rispetto a prima perché siamo in un punto più in alto entrambi quanto è 5.3 5.3 anche io credo di sì abbiamo fatto la stessa altezza vediamo 5 dai ma non ci credo allora vediamo cosa succede vediamo cosa succede anche chi muore per ultimo comunque conta perché ci possiamo vedere premi la fu quella faccina e sì mi sa che siamo alla stessa altezza e mi sa proprio di sì vedo la lava attraverso le scale vedo la lava attraverso le scale aspettate se faccio così mi sa che sono morto e basta sì sì comunque è morto sì 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 sono già morto no ma eri leggermente superiore tua forse di magari quei 100 metri che ti permettono di vincere ho provato ad andare sopra la scala nel mio piano in modo da rimanere bloccato nella scala per sopravvivere più di te ma non faceva un bel posto vero era comunque un bellissimo posto siamo stati bravi entrambi ma tu leggermente di più perché si esiste tutto lasciateci un bel anche per una volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdere gli altri bisogni ciao e alla prossima ciao ciao ciao